Siamo all'ultima puntata estiva, Guybrush. Ma come? L'estate sta già finendo? L'estate è un anno, se ne va. Ma no, che tristezza, che disdetta, uffa. Sì, settembre, le prime piogge, l'autunno che incombe, il grigiore. Ma qua non piove da sei mesi. Lo so, perché il global warming è colpa di Bitcoin. Bitcoin è morto, chiudiamo tutto, è la fine. Ok, basta. Grazie amici telespettatori. Quarta puntata estiva. Ma noi salveremo il mondo grazie ai Bitcoin che voi vi comprate e conservate su Bitbox02, il miglior hardware wallet sul mercato. Quello con le palle, quello con la croce svizzera, garanzia di qualità, garanzia di prodotto integerrimo. Bitbox02, lo sapete, tecnologia dual chip, possibilità di storare le vostre chiavi private sulla micro SD esterna, software open source verificabile da tutti, come ci ha spiegato Guybrush mille volte. Il migliore sul mercato, perché il migliore sul mercato? Punto. Non è che vi possiamo dare tante altre spiegazioni su questo punto. shipcrypto.ch è il sito dove andare a toccare e verificare con mano tutto quanto vi stiamo dicendo. Prendetevi un'oretta di tempo se siete come San Tommaso, se non vi fidate, perché la quantità di dettagli che troverete sul loro sito a riprova della sicurezza derivante dalla qualità del prodotto che questi ragazzi hanno sviluppato è, come dire, abbacinante. Non ci sono possibilità di fuga. Noi lo abbiamo provato, lo abbiamo scelto per conservare i nostri bitcoin prima dell'incidente nautico. Se dovessimo riacquistarne lo sceglieremmo ancora. Si chiama Bitbox02, sul sito di Shipcrypto lo potete acquistare col 5% di sconto grazie al codice Bipshow. Anche grazie a Bitbox02 che potete sentire le puntate estive con la posta del cuore del Bitcoin Italia Podcast Guybrush che oggi parte con una domanda che, guarda, io Guybrush non ci volevo credere. Non ci volevo credere. Senti qui, caro amico mio, ci chiede il nostro amico Samuele da... Da Portobuffole in provincia di Treviso. Da Portobuffole in provincia di Treviso. Qualche giorno fa spiegavo con entusiasmo Bitcoin a un amico che con lo stesso estusiasmo mi ascoltava e mi chiedeva più nozioni sull'argomento. A un certo punto mi ha messo davvero in difficoltà con questa domanda a cui non ho saputo rispondere e che giro a voi. Come può essere Bitcoin una rivoluzione sociale se questi vengono comprati con moneta fiat? Quando tutti si renderanno conto del valore incredibile di Bitcoin, i poveri che non possono comprare sufficienti Bitcoin rimarranno poveri, i ricchi sempre ricchi. Grazie mille, se mi risponderete. Eh, caro Samuele, noi abbiamo detto mille volte che Bitcoin è una rivoluzione sociale, ma non abbiamo mica detto che Bitcoin sarà la panacea di tutti i mali, la bacchetta magica di Harry Potter, quello con cui creeremo un mondo dove non ci saranno più disparità. È evidente che un certo tipo di differenze esisteranno sempre nel mondo, però Bitcoin, dal mio punto di vista, è un grande strumento di ridistribuzione della ricchezza. Per esempio, quando tu parli del fatto che un giorno i ricchi si renderanno conto che i Bitcoin è inevitabile e allora correranno tutti quanti nel primo mondo ad acquistarlo in massa, hai forse ragione, ma la domanda è quando arriverà quel giorno? Perché nel frattempo sono passati 13 anni e in questi 13 anni, noi lo sappiamo, nazioni del secondo e terzo mondo, persone del secondo e del terzo mondo, ne hanno comprati. Percentualmente, magari non quantitativamente, ma percentualmente in molti paesi in via di sviluppo più persone che nei paesi del primo mondo. Facciamo un esempio stupido. Pensa a che cosa dovesse succedere se tra vent'anni Bitcoin dovesse valere un milione di euro. Avremmo uno Stato che oggi è fra i più poveri del mondo, come El Salvador, che, se è riuscito a odlare, si troverebbe a potersi pulire il sedere con un cantone svizzero, intero praticamente. E questa... Bella questa immagine. Vero, ti è piaciuta? E questa, secondo te, non è un rivoluzionario, non è una ridistribuzione economica. Lo stesso ovviamente vale per le piccole famiglie. Poi, è ovvio, c'è quel paperone riccazzo di Michael Saylor che è più scaltro e più sveglio di tutti quanti e che già era uno dei diecimila più ricchi del mondo, probabilmente nel mondo che verrà, nel Bitcoin Standard, sarà il più ricco del mondo. Eh, ho capito. Però noi mica possiamo fare una colpa a quelli che già hanno accumulato tanta ricchezza di essere bravi, intelligenti, longimiranti e di sapere anche correre dei rischi come quelli che sta correndo oggi Michael Saylor con MicroStrategy. Cioè, comunque, oltre alla ridistribuzione, c'è anche la meritocrazia. Quindi, coloro che oggi fanno parte di un'elite e ciò nonostante hanno capito per primi che la nave dell'economia Fiat sta affondando. In fondo, no, Gaivro, c'è anche giusto che vengano premiati. Beh, forse il vizio di forma del ragionamento sta nel fatto che noi ci aspettiamo una adozione, una rivoluzione omogenea per quanto riguarda tutta l'umanità e tutte le persone e tutti i processi di produzione, industriali, economici, eccetera. Ma non è mai così, non sarà mai così, niente. Quindi, avremo da una parte il paperone Michael Saylor ma avremo dall'altra il ragazzo che fa andare il suo negozietto di riparazioni di cellulari in Nigeria, come avevamo raccontato. Insomma, c'è un ventaglio di casi o le elezioni, il diploma di Mi Premier Bitcoin nel Salvador. Tanto dell'adozione e tanto di questo processo non omogeneo passerà anche dall'educazione. Quindi, la differenza sostanziale è che il sistema, il fiat standard è completamente manipolato e alterato e lo stiamo vedendo. C'è più di così, non c'è bisogno di altre prove. La proposta di Satoshi Nakamoto, il Bitcoin standard, invece non ha questa proprietà, cioè non è confiscabile, manipolabile, alterabile, inflazionabile ed è alla portata di tutti. Sì, quindi, però non è che Satoshi Nakamoto è Babbo Natale che è arrivato a dare il suo regalo a tutto il mondo. Bisogna fare qualcosa, ecco. Chi farà qualcosa in questo periodo avrà ovviamente un vantaggio giustificato, come dici tu, rispetto a chi non avrà fatto niente in questo periodo. Questo è un dato di fatto, una presa di posizione matematica nei confronti dell'adozione di Bitcoin. Quindi, sono d'accordo anch'io che però, in qualche modo, la tendenza a preferire disfarsi della valuta schifosa e mantenere Bitcoin potrebbe essere un problema che rallenta l'adozione. Ma, ricordiamoci sempre che questo è un problema che si ha finché non vivi in Russia e sei in Navalny, finché non vivi in Cina e sei da Ai Weiwei, finché non vivi in Arabia Saudita e sei gay, finché non vivi in Ucraina e devi scappare. Finché non sei in una di queste situazioni di popò, puoi scegliere, diciamo. In certi casi, non proprio, non puoi scegliere. E se sai, conosci il mezzo Bitcoin, hai una soluzione, alla tua portata hai una soluzione al problema. E quindi, secondo me, questo sarà il driver principale. Nonostante noi continueremo a parlarne per i prossimi 30 anni, ma io lo dico sempre, in realtà, io, nella mia, ho 40 anni, la mia, la mia, purtroppo, il mio pezzo di vita Fiat, nello standard, nel Fiat standard, me la sono fatta. O mi sono costruito una famiglia senza Bitcoin, mi sono costruito una casa senza Bitcoin e quindi, quello che posso fare, secondo me, ragionevolmente, è accumulare per i miei figli, risparmiare per i miei figli, quello che facevano i nostri bisnonni, acquistando terreni, per esempio, o effettivamente risparmiando quando funzionava ancora. La generazione dei nostri genitori, quindi i baby boomer, i cosiddetti baby boomer, non ha niente di tutto questo, non ha potuto, ha risparmiato in valuta e in beni che si stanno svalutando completamente. Esatto. Quindi ci sarà un momento di grave crisi. Noi, fortunatamente, adesso abbiamo, ridiamo dignità al sistema denaro, a questa tecnologia. Gli ridiamo dignità, gli ridiamo la sua funzione di riserva di valore, di mezzo di scambio incensurabile, di unità di conto, come stiamo facendo, e quindi siamo fortunati, però, sì, sarà un processo non omogeneo e quindi avrà degli alti e dei bassi. Assolutamente. E poi se ci pensi, caro amico Samuele, bene, 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 i poveri che non possono comprare rimarranno poveri, i ricchi sempre più ricchi. Pensa che puttanata che è sta cosa che ti ha detto il tuo amico. Cioè, che cacchio vuol dire i poveri saranno sempre poveri e i ricchi saranno sempre ricchi? Cioè, proprio facciamo un'analisi logica di questa frase, assaporiamola per un momento per capire che non vuol dire un cazzo. Cioè, che discorso è questo? Innanzitutto cominciamo a capire, anche se fossero così, chi sono i poveri e chi sono i ricchi. Perché se, ipoteticamente, come per magia, tutti i poveri diventassero poveri e tutti diventassero ricchi e viceversa, comunque ci sarebbe una sorta di rivoluzione sociale. Eh, ma poi dobbiamo anche andare a vedere le percentuali. Quanti sono questi poveri che rimarranno poveri e quanti ricchi che saranno ricchi o più ricchi? Eh, se c'è, e non è che possiamo, non è che o il cento da una parte e lo zero dall'altra oppure non vale più niente. Quindi, il tuo amico a cui va il nostro più caloroso aiuto, saluto, ti ha fatto, ti ha detto una cosa che a cui tu non sei riuscito a rispondere perché non hai avuto la lucidità per pensarci attentamente per capire che è una stronzata, che ti ha detto una cagata e quindi a volte la gente poco intelligente ci smonta con tanta simpatia per il tuo amico che dovrebbe leggere meno Alfonso Signorini e ascoltare più il Bip Show. Cosa ridi? È un consiglio. Senti, Guybrush, ma sai che quando i Beeper ascolteranno questa puntata l'estate starà già finendo? Eh, sì, 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 che malinconia però devo essere onesto l'unica cosa che mi mancherà davvero dell'estate sono i gelati. I gelati, il piedone piedoso del Bitcoin Italia Podcast. Come diceva, i gelati, gli schianti di gelati sono buoni ma costano milioni. Esatto, ma solo i gelati di tutta estate ti mancheranno? No, non proprio tutti i gelati, solo i gelati pagati in Bitcoin. Ah, ma tutta, allora ti stai riferendo a quelli di caffè danesi. Allora, amico mio, ti do una bella notizia perché questo locale in pieno centro storico di Gussago, una delle località più belle della Francia corta, offre anche un'ampia scelta di tisane, cioccolate e un'ottima offerta legata anche agli aperitivi a partire da un grande classico in Francia corta proprio e da un'accurata selezione di birre Guybrush. Ah, ma quindi volendoci possiamo andare tutto l'anno non solo d'estate, è 100% uptime come il Bitcoin Italia Porta. certo e tutto questo è possibile grazie al fatto che accettano Bitcoin grazie a Bipay quindi amici che vogliate un gelato che vogliate sbronzarvi di Francia corta che siate ghiotti di cioccolata andate a Gussago alla gelateria danesi e divertitevi godetevi la vita spendendo i vostri satoshi supportate le attività che accettano Bitcoin gli eroi i pionieri che accettano Bitcoin e se volete esserlo eroi e pionieri bitcoinpeople.it è il sito dove scoprire come si fa ad accettare in un click Bitcoin nella vostra attività i primi arrivano per primi la tua domanda è allora ci scrive Marco da Capracotta in provincia di la conosco molto bene Capracotta la conosco molto bene bello il piazzo di Capracotta caro Bipsho quale sono le vostre ragioni per considerare Monero una shitcoin allo stato attuale era una domanda che potrebbe prendere tutta una stagione infatti volevo rispondere velocemente allo stato attuale delle cose Monero sembra la cosa più vicina il contante dal punto di vista della privacy ci sono problemi che non vedo allora rapidamente intanto ti segnalo un ottimo recente dibattito tra Giacomo Zucco e Set for Privacy proprio incentrato su questo argomento è leggerissimamente lungo cioè è stato diviso in tre episodi da un'ora e 21 perché Giacomo ha più il dono della sintesi di te Guybrush ci siete tu e Giacomo che ve la palleggiate di argomentazioni ce ne sono parecchie ti dico diciamo quella che più mi sta a cuore a me diciamo a parte la definizione shitcoin altcoin anche questo è un fatto prettamente umano io la vivo più che altro come una distinzione lavoro con i computer da quando sono nato praticamente sono nato davanti a un computer quindi per me esiste bitcoin esistono altri software sai quanti software schifosi ho visto nella mia vita lotus notes campo minato pinball quindi cioè per me cioè un project cardano è un altro dei tanti programmi di merda che ho visto nella mia vita esempi di questo per me non c'è una questione etica morale mi rendo conto che da un certo punto di vista esiste questa cosa io tendo a non fermarmi a questo punto però Monero anche per me è stato per tanto tempo una mi ha messo in difficoltà diciamo perché la community intanto per la community che davvero si prende a cuore alcuni temi che vengono presi a cuore nello stesso modo in bitcoin lo sviluppo i dettagli nello sviluppo il dettaglio nella progettazione nella descrizione delle standard la privacy tutto roto attorno alla privacy che è importantissimo però sono state fatte delle scelte sistemiche che purtroppo secondo me condannano e condanneranno Monero all'oblio perlomeno nel raggio temporale in cui si promette bitcoin di funzionare quindi da qui alla fine dei suoi halving cioè secondo me ci sarà un certo punto in cui Monero non sarà scalabile uno dei punti principali è una delle cose di cui vi ho anche parlato negli anni negli anni scorsi e cioè il suo algoritmo di hashing il suo algoritmo di proof of work che per scelta degli sviluppatori è cosiddetto asic resistant ora andando nel dettaglio vi avevo raccontato kryptonite random x gli algoritmi i soft fork che avevano fatto per cambiare algoritmo e rendere inutili gli asic per quanto riguarda Monero alla fine della questione che cos'è successo che con la loro scelta di implementare random x e astraendo fino di livello in livello la difficoltà nel far funzionare un asic un circuito asic sull'algoritmo di mining di Monero hanno fatto quello che hanno fatto più o meno tutte le le shitcoin e per questo perlomeno lo possiamo creare un parallelismo con le altre shitcoin e quindi hanno centralizzato l'algoritmo di consenso della proof of work di Monero perché random x è molto oneroso in termini di RAM e soprattutto non funziona su architetture su architetture di processori a 32 bit cosa che tu dirai è inutile tanto 32 bit tanto tecnologia obsoleta nì perché ci sono diversi casi secondo me in cui è bene che l'implementazione tecnologica di una criptovaluta rimanga un pochino indietro rispetto alla disponibilità perché non sono non vivono tutti non vivono tutti nel primo mondo non sono non hanno tutti la possibilità di dotarsi dell'ultimo hardware di ultima generazione l'inteli 5 l'inteli 7 l'inteli 9 ci sono anche posti nel mondo in cui esattamente come l'economia di scala ci insegna quando i nostri prodotti non funzionano vengono utilizzati in altri posti quando una tecnologia non funziona viene venduta in altri mercati a più basso impatto economico quindi secondo me solo da questo prendendola solo da questo punto di vista ce ne sono tanti altri ripeto la discussione sarebbe molto 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 lunga però solo da questo punto di vista ci tenevo a dirlo perché è una delle cose che ho raccontato durante il Bitcoin Italia Podcast e mi sono reso conto che questa ASIC resistance è in realtà una chimera è una chimera tanto vale fare la scelta di Bitcoin di utilizzare al contrario un algoritmo semplicissimo implementabile molto facilmente quindi che diventerà open source l'architettura ASIC di Bitcoin come già sta accadendo come farà la Brockstream come farà la Square di Jack Dorsey eccetera eccetera e quindi scalare e far diventare chiunque un possibile miner e non mettere un paletto arbitrario in un certo punto e dire no secondo me gli ASIC non devono diventare dei miner questo per me è uno dei limiti più evidenti dal punto di vista dell'implementazione tecnologica e che condanna un pochettino Monero se posso aggiungere una cosa che forse anzi che non entra nel merito della questione tecnologica nella quale tu sei ben più competente ma che invece entra se vogliamo un pochino più sul giudizio morale etico non tanto di Monero come progetto tecnologico ma della comunità che gira attorno a Monero Monero diventa di diritto una shitcoin se non forse la shitcoin per definizione nel momento in cui la comunità e l'ufficio marketing dell'azienda iniziano in maniera secondo me totalmente fraudolenta a fare questa campagna mediatica volta a convincere le persone che non hanno sufficiente competenze tecnologiche che bitcoin non è un privacy token mentre Monero si questa è una cosa gravissima perché stiamo giocando magari con la vita delle persone che di privacy hanno bisogno magari per togliersi dagli impicci o da una situazione spiacevole Monero non è un privacy token per il motivo banalissimo che non fa sufficiente transazioni per garantire un'entropia sufficiente a fare in modo che un ipotetico regolatore o che un'indagine approfondita non solo sulla blockchain ma incrociando i dati perché quando le agenzie fanno chain analisi ragazzi mica si limitano a guardare la blockchain di Monero la blockchain di bitcoin incrociano i dati guardano gli indirizzi ip il traffico le mille microinformazioni che noi lasciamo su internet quindi non è solo la questione uso Monero da dove lo uso dal mio iphone dal mio computer attaccato a che rete dove per fare che cosa ecco dato che la blockchain di Monero fa quattro transazioni di numero possono anche essere pseudonimissime ma se dal mio indirizzo ap si riesce a capire che uno di quei quattro sono io e si riesce a capire con facilità pure quali sono gli altri tre è un attimo arrivare a capire chi è chi più che altro gli altri tre sono io regolatore e quindi il quarto sei per forza tu capisci questo per spiegare in soldoni quindi in soldoni il problema della scalabilità delle ring subinatures di fatto e Monero per come è fatto non può scalare quindi non solo non avrà mai un numero sufficiente di transazioni perché nessuno lo usa usano tutti bitcoin perché bitcoin è l'unico vero protocollo libero distribuito raga non so più come ripetervela questa cosa se poi volete continuare a sperare che qualche cagata inutile riesca a sfondare perché volete andare in giro con la vostra lambo de merda fate come vi pare ma siete dei fessi c'è solo bitcoin tutto il resto è perdita di tempo e di intelletto umano ma per di più Monero è fallace perché la sua tecnologia anche se lo volessero usare milioni di persone si rompe non scala quindi Monero è un privacy token di merda nel momento in cui la loro community lo vende come il vero privacy token l'alternativa bitcoin il bitcoin killer perché bitcoin non è vero che è un privacy token diventa uno scam token dei truffatori del cazzo e che il karma li punisca quindi Monero è con Ethereum la regina delle shit coin non so se vuoi aggiungere qualcos'altro no no io allora in realtà i patatoni di Monero non li ho mai visti da questo punto di vista perché loro hanno anche un incontro settimanale si chiama impare Monero talk in cui criticano tutti gli aspetti di Monero tutte le settimane quindi un po' si danno anche le bottigliate sul pene tipo fatta fazzi cioè io li capisco anche a me piacerebbe tante cose da fare su bitcoin subito e facciamole adesso però purtroppo bisogna anche riconoscere che certe cose non si può averle subito bisogna lavorare implementare studiare lo sviluppo di bitcoin è focalizzato sulla privacy dategli tempo ragazzi le cose complesse richiedono tempo cioè già adesso bitcoin si può usato nel modo giusto usato nel modo giusto proteggere la vostra privacy in mille modi però il difetto è che non è richiede una certa conoscenza tecnica ancora quando queste funzionalità saranno alla portata di tutti anche di chi non vuole imparare per forza il protocollo allora saremo a un buon punto proteggete la vostra privacy acquistato bitcoin fatelo su Bitkeep la migliore applicazione per acquistare bitcoin in maniera semplice con procedura di KYC Lite Bitkeep è un'azienda svizzera ma dal cuore italiano che grazie alla legge svizzera infatti vi consente di acquistare fino a 900 euro al giorno mica pochi ragazzi in bitcoin senza dover fare la vostra KYC l'applicazione che scaricherete gratuitamente per i vostri dispositivi iOS o Android infatti non vi chiede nessun dato carta d'identità niente vi chiede soltanto un'email che può essere anche un'email protetta anonima proton mail inventata Bitkeep è facilissimo da usare perché chi l'ha sviluppato ha capito che per molta gente comprare bitcoin è una procedura che spaventa terribile un'esperienza utente agghiacciante Bitkeep invece è stato fatto in maniera semplicissima poche funzioni chiarissime facilissime da utilizzare è un vero bitcoin wallet vi dà le vostre 12 parole salvatele perché i vostri bitcoin su Bitkeep sono davvero i vostri bitcoin dopodiché impostate la cifra che volete acquistare Bitkeep vi fornisce un IBAN a cui dovete fare un bonifico e una causale che dovrete inserire nel bonifico voilà chicos vi basta aspettare qualche ora che i vostri bitcoin arrivano sull'applicazione proprio come li avete ordinati il modo più facile per acquistare bitcoin fine se non l'avete ancora provato fatelo ragazzi perché rimarrete scioccati grandi e grazie a Bitkeep per aver sponsorizzato con gli altri nostri sponsor questo agosto di posta del cuore dal Bitcoin Italia Podcast Bitkeep Bitcoin People Bitbox02 siete la nostra posta del cuore grazie davvero mille a tutti ragazzi ci scrive Guybrush Luca da Luca da Pocapaglia in provincia di Cune esatto ce l'avevo sulla punta della lingua Pocapaglia bellissimo bello molto bello bella la fiera di paese caro Bipshow vorrei sapere come e chi è la persona che ognuno di voi ha fatto scoprire Bitcoin e se avete mai avuto posizioni o idee anti Bitcoin prima di conoscere il progetto di Bitcoin comizia tu allora io ho Gregory Maxwell Gregory Maxwell su i forum su Bitcoin Talk e su IRC ai tempi mi stupiva il suo modo di esporre la parte tecnica lo invidiavo tantissimo volevo essere come lui non ho capito non capivo un cazzo sostanzialmente ma volevo capire a tutti i costi sono sincero però non ho capito a più riprese a più ondate l'importanza di Bitcoin non è che sono stato anti Bitcoin in certi momenti però non sono stato pro Bitcoin come quando ho iniziato ad interiorizzare l'impatto che avrebbe avuto sul mondo economico diciamo sul mondo sul fiat standard su quello che in realtà non avevo mai messo in discussione in vita mia lo davo per scontato il sistema economico e non pensavo ci potesse essere un'alternativa quindi il mio di fatto il mio mentore sono stati i lunghissimi post super cazzolosi di Gregory Maxwell che invidiavo tantissimo perché era bravissimo a esporre e a rispondere a tutti i dubbi che se volete i suoi post su Bitcoin Talk ci sono ancora tutti quindi sono bellissimi io poi dopo ho avuto momenti in cui ho provato anche lo dico con un po' di vergogna a fare il trader ma è tipo la cosa che mi viene peggio in assoluto in vita mia faccio schifo proprio ho capito che non è cosa per me quindi facevo di trader sui derivati di CFD su Bitcoin su plus 500 delle porcate allucinanti poi dopo pian piano ripeto io ho interiorizzato molto prima la parte tecnica quindi blockchain proof of war cash criptografia queste parti qui quando poi ho capito che tutta questa implementazione cosa andava a fare come avrebbe potuto influire anche il mio potere d'acquisto il mio potere di risparmio quelle cose che non sapevo allora lì sono diventato un vero Bitcoin però non c'è mai stato di fatto un momento in cui ero anti Bitcoin è certo io non mi ricordo chi è stata la persona che mi ha fatto scoprire che quindi mi ha fatto conoscere per la prima volta che esisteva qualcosa chiamata Bitcoin perché in realtà lo conoscevo già ma non l'avevo capito chi me l'ha fatto invece capire il primo a parlarmi delle possibili conseguenze etiche politiche sociali è stato sicuramente Andrea Santonopoulos persona verso la quale ho un debito culturale enorme negli Stati Uniti ero fu un appuntamento dal vivo quindi è stato molto bello non ho mai avuto posizioni anti Bitcoin perché prima di conoscere il progetto Bitcoin è talmente secondo me rivoluzionario che è difficile poter immaginare qualcosa di simile però come è risaputo anche se i nostri amici a volte dimostrano di avere una certa antipatia verso i motori di ricerca non è un segreto basta fare una googlata sul mio nome che io però vengo da un passato con un'esperienza politica fattiva diretta tradizionale quindi diciamo che sono sempre stato di idee libertarie sempre convintamente liberale liberista libertario ho avuto anche delle esperienze dirette anche dirigenziali in radicali italiani nel movimento radicale e però ecco quindi diciamo che ho sempre avuto se vogliamo tutto l'humus culturale per poter capire e apprezzare bitcoin come strumento di attivismo politico non sono però mai stato anarchico perché questo perché ho sempre considerato l'anarchia ogni declinazione di anarchia come una forma un po' utopistica cioè come un'idea tutto sommato bella valida ma che mancasse completamente degli strumenti necessari per poter essere realizzata e quindi per lungo tempo ho declinato la mia il mio modo di pensare e la mia attività politica mio attivismo reale ad esempio nei radicali che comunque sono un movimento sì libertario ma anche molto per certi versi statalista che considera molto la macchina dello stato come l'unico luogo di lotta politica ecco se vogliamo bitcoin ha radicalizzato il mio libertarismo nel senso che quando finalmente ho capito e ho studiato bitcoin io lì mi sono reso conto che forse un approccio anarchico al mondo non era più impossibile perché l'umanità stava iniziando a creare grazie alla tecnologia degli strumenti che finalmente per la prima volta consentivano forme efficaci di autogoverno che eliminassero ogni forma di democrazia rappresentativa e quindi non ho mai avuto posizioni anti bitcoin in generale però se vogliamo quella componente anarcho libertaria che oggi fa parte di me prima di bitcoin non esisteva e ha potenziato il mio liberalismo ecco lo fa lo fa bitcoin questa cosa direi che abbiamo forse tempo per un'ultima domanda l'ultima domanda l'ultima domanda più colloquiale ce l'ho io ci scrive Marco da ho finito i paesi del Montevidon combatte in provincia di Fermo nelle Marche Marco no scusa Andrea Andrea come vi siete caro Bip Show come vi siete conosciuti tu e Ricchi ah caspita allora volevo pagare tributo a la nostra la nostra come si può dire amica amica ciao Luci che che ci ha fatto conoscere Lucia ci siamo conosciuti adesso non mi ricordo non riesco neanche a collocarla anni fa ormai sì anni fa tanti anni fa dieci siamo conosciuti perché tu eri fidanzato con Lucia che era una mia amica Lucia era una bravissima organizzatrice di feste al quale io partecipavo e un giorno io e Ricchi ci siamo trovati assolutamente subito affini su diversi argomenti Lucia amica di Elena mia amica da ancora più tempo già amica tua amica di tua moglie quindi in realtà amicizie comuni conoscenze amicizie comuni la cosa bella è che noi abbiamo avuto una bellissima lunghissima amicizia prima che esistesse bitcoin e che poi siamo arrivati a bitcoin in maniera autonoma e separata fino a che un giorno di molti anni dopo completamente sbronzi a un tavolino di un bar iniziamo tu mi dici qualcosa sugli smart contract sulla blockchain io ti rispondo subito ah no magari sul bitcoin sul bitcoin no ma sul lightning network teoricamente si possono fare tu sgrani gli occhi e fai ma ti intendi di programmazione ma ti intendi di bitcoin ma va e lì abbiamo cominciato a parlare di questa roba che nel frattempo in maniera perché io avevo vissuto a lungo all'estero eravamo sempre amici però non è che ci vedevamo magari più nel quotidiano settimanalmente eravamo arrivati entrambi per vie diverse allo stesso nocciolo lì poi ognuno di noi ha continuato ad approfondire fino anche a un certo punto mi è venuta questa idea te l'ho chiesta facciamo un podcast e tu dopo esserti fatto un po' corteggiare da puttanella quale sei ma io non sapevo neanche che cazzo è non ho mai ascoltato un podcast in vita mia ancora oggi perché Bip Show non lo ascolta Guybrush dovete sapere dopo quattro anni sarà bellissimo questo poi mi dicono che piace quindi è così è così caro amico mio spero che tu abbia passato delle belle vacanze caro Guybrush ti lascio con l'ultima domanda fondamentale e poi ci sentiamo settimana prossima da riga in collegamento prima puntata di settembre seconda metà del Bip Show cazzi mazzi sarà bellissimo ragazzi sarà bellissimo ma devi sapere che ci scrive Maurizio da ho finito i paesi di merda dall'arderello in provincia di Pizzo ho sentito dire che Bitcoin è morto ma è vera questa storia di Pizzo Grazie a tutti